Ho visto un generatore di onda quadra rettangolare, vediamo adesso il generatore di onda triangolare. Allora, voi sapete che un'onda triangolare si ottiene facilmente come integrale di un'onda quadra. Quindi un modo più semplice di ottenere un generatore di un'onda triangolare potrebbe essere quella di prendere un'onda quadra e poi integrare. Ne sappiamo come fare, quindi io posso inserire qui un generatore d'onda quadra del tipo che abbiamo visto le altre volte a lezione, poi prendere l'uscita, che è un'onda fatta in questo modo, e procedere all'integrazione con un integratore di Miller, che è quel circuito fatto con l'operazionale, una resistenza e una capacità. Quindi qui io mi aspetto di vedere un'onda triangolare di questo tipo. D'accordo? Allora, questa soluzione che sembra molto immediata, in realtà non funziona. Il motivo per cui non funziona è perché la tensione di offset di ingresso di ingresso dell'operazionale porta l'integratore fuori linearità. Ora vediamo che cosa vuol dire in dettaglio. Va bene? Dunque vediamo in dettaglio che cosa vuol dire e ragioniamo con un'onda quadra e un integratore tenendo presente la presenza e la tensione di offset all'ingresso dell'operazionale. Vi ricordate? Abbiamo detto com'è che si può modellare, rappresentare il fatto che l'amplificatore operazionale abbia una tensione di offset. Questa è la tensione di ingresso. Questo segnale, diciamo che questa qui sia vi, questa è la vi che ne applichiamo. È il generatore ideale di onda quadra. Poi, io che cosa posso fare? Se vi di offset, vi o come abbiamo chiamato, è la tensione di offset cioè la tensione che bisogna applicare all'ingresso dell'amplificatore operazionale per avere un'uscita nulla, allora possiamo rappresentare l'operazionale come un operazionale ideale più un generatore di tensione di ingresso di offset all'ingresso, cioè una cosa del genere. D'accordo? Quindi questo blocchetto, amplificatore ideale più generatore di tensione di offset equivale a un amplificatore operazionale reale quindi con offset, questo è ideale perché vedete, se applicate a questo amplificatore reale una tensione pari a vi di offset all'ingresso di quello ideale c'è tensione nulla e quindi all'uscita abbiamo tensione nulla. Quindi il circuito che corrisponde all'integratore di Miller e al generatore di onda quadra è in realtà questo quindi rispetto al caso ideale c'è soltanto questo generatore in più però questo generatore in più ha un effetto significativo Com'è che si fa studiare? Basta applicare il principio di sovrapposizione degli effetti quindi valutiamo, abbiamo due generatori di ingresso valutiamo prima l'effetto sul circuito di un generatore e poi l'effetto dell'altro se teniamo acceso e poi sommiamo i due effetti la tensione VU sarà la tensione V dovuta solo a VI più con VI O spento più la tensione V dovuta solo a VI O con VI spento d'accordo? Allora, quando è acceso soltanto VI e VI O è spento abbiamo il comportamento da integratore perché la tensione di ingresso con onda quadra viene integrata e quindi in uscita abbiamo un'onda triangolare ed è il comportamento ideale quando invece è acceso il generatore di offset soltanto che cosa succede? Facciamo un ragionamento senza rifare il disegno però notate che cosa succede quindi applico la sovrapposizione degli effetti allora VI ON effetto ON VU onda triangolare se VI O è ON qual è l'effetto? guardate bene allora VI vuol dire spento questo vuol dire VI O uguale a 0 ok VI O è spento che cosa succede? vedete in pratica possiamo comunque applicare l'approssimazione in cortocircuito virtuale quindi questo nodo qua è a tensione più VI O perché la tensione di ingresso dell'amplificatore operazionale ideale è nulla e quindi la tensione applicata alla resistenza R è pari a VI di O quindi la tensione VI O è applicata così ai capi della resistenza R che vuol dire che qui in R passa una corrente I uguale a VI O diviso R e la corrente I passa anche siccome non può entrare all'ingresso dell'amplificatore operazionale in C ok passa anche in C allora la variazione della tensione di uscita rispetto alla tensione di ingresso se c'è una corrente che scorre in quel modo per definizione di capacità è uguale a meno I su C e quindi è uguale a meno VI O diviso R C quindi ricapitolando se c'è una tensione di offset di ingresso VI O positiva abbiamo una corrente I che scorre in quella direzione e quindi la tensione di uscita decresce linearmente va bene? allora se applichiamo la sovrapposizione degli effetti quindi cosa abbiamo in uscita? abbiamo una tensione che decresce linearmente più un'onda triangolare non soltanto un'onda triangolare l'effetto è nel tempo abbastanza drammatico è evidente drammatico nel senso che è una cosa che si vede molto forte che cosa succede? succede questo che questa è la tensione V se non avessi offset avrei un andamento di questo tipo va bene un'onda triangolare è perfetta a questa se a questa sommo un'onda di questo tipo questa qui è dv su dt uguale a meno V di offset rc su rc tenete presente che di V di offset io non conosco il segno potrebbe essere anche negativo e la rampa essere positiva allora cosa succede? che quando vado a sommare i due contributi mi viene come risultante un'onda triangolare che lentamente decresce no? è una cosa così qui scendo qui salgo un po' di meno qui scendo un po' di più ora tenete presente che sto esagerando un po' l'effetto perché la tensione di offset è piccola e quindi quella pendenza è molto molto piccola però immaginate cosa succede nel tempo questa onda triangolare scende sempre di più in valore medio e non si ferma mai o meglio quando è che si ferma? si ferma in pratica quando la tensione di uscita raggiunge la tensione di alimentazione e quindi a quel punto l'amplificatore operazionale esce dalla regione di funzionamento lineare e raggiunge un'uscita che è meno V la tensione di alimentazione oppure più la tensione di alimentazione secondo il segno di V di offset ok? quindi abbiamo il valore medio dell'onda triangolare varia linearmente finché l'amplificatore operazionale esce dalla regione di funzionamento lineare se esce dalla regione di funzionamento lineare non funziona più come un amplificatore quindi poi a quel punto tipicamente la tensione rimane costante a meno Vcc o più Vcc insomma la tensione di alimentazione quindi in pratica non è così che si fa il giratore d'onda triangolare sebbene sia probabilmente come dire la soluzione più intuitiva però ha questo difetto che non consente di adottarla com'è che si fa in pratica? bisogna fare una cosa che in qualche modo un circuito che in qualche modo sia ciclo chiuso cioè senta l'uscita verifichi l'uscita in base all'uscita controlli qual è il motivo qui il motivo per cui non funziona questo circuito se torniamo un attimo indietro c'è questo difetto dell'offset che è una cosa che c'è sempre per quale motivo a un certo punto questo circuito esce dalla regione di funzionamento lineare e nessuno fa niente perché semplicemente il giratore d'onda quadra non sa niente di quello che succede a valle vedete non c'è nessuna informazione su quello che succede a valle che torna indietro e modifica il funzionamento del giratore quindi il giratore va avanti per il conto proprio il segnale viene integrato poi ci si somma un segnale indesiderato che può in effetto diciamo nel tempo distruttivo d'accordo la soluzione è quella di fare in modo che il circuito si aggiusti da solo si renda conto ok senza che abbia autocoscienza ma vediamo com'è che si può fare facilmente si renda conto del fatto che l'uscita si abbia raggiunto certi livelli e in qualche modo automaticamente si corregga va bene non c'è bisogno di inserire di intelligenza analogica per ottenere una cosa del genere basta come dire fare in modo che questo meccanismo di correzione avvenga intrinsecamente è piuttosto facile vediamo un esempio un modo per ottenere questa cosa è fare così fare in modo che lo scatto nel generatore di onda triangolare nel generatore d'onda triangolare e scusate rettangolare vi ricordate abbiamo un meccanismo per fare scattare il trigger di Schmitt adesso qui possiamo fare la stessa cosa ma invece di fare scattare il trigger di Schmitt solo sulla base dell'uscita del trigger di Schmitt stesso lo facciamo scattare sulla base dell'uscita dell'integratore vediamo un attimo insieme come si fa quindi questo è il trigger di Schmitt questa è l'uscita la prendiamo qua e la integriamo allora nel caso del generatore di onda quadra che cosa si faceva si prendeva l'uscita del trigger di Schmitt e si usava per caricare o scaricare una capacità ricordate in base al livello di carica della capacità avveniva lo scatto successivo adesso si usa direttamente questa capacità di uscita si prende questo segnale e si porta in ingresso per far scattare il trigger di Schmitt perché si fa così? perché in questo modo il comparatore scatta quando l'uscita completa raggiunge un valore predeterminato quindi siamo sicuro che a un certo punto scatti e non vada tutto a finire in saturazione allora questa tensione qua questa chiamo un Vop questa serie del diodo dei due diodi Zener come si dice scatta quando V0 chiamiamo uguale a Vz più Vgamma perché un diodo è in inverso un diodo in diretta vediamo come funziona questo circuito allora ovviamente questo primo blocco è un trigger di Schmitt rispetto al normale rispetto alla situazione normale qui la differenza è che per un problema di inversione del segno l'ingresso l'abbiamo portato qua dal lato più invece che dal lato del meno adesso lo vedrete perché allora innanzitutto questa tensione la chiamiamo V più questo trigger di Schmitt sapete che scatta quando V più è uguale a zero no ovviamente allora guardiamo un attimo il circuito guardiamo un attimo V più da che cosa dipende vedete V più è messo in questo modo abbiamo qua R1 disegno solo un pezzettino di circuito intorno a V più qua c'è R2 qui c'è Vop e di qua invece c'è V quindi io per determinare il valore della tensione V posso applicare il posso applicare il principio sulla posizione degli effetti quindi accendo solo V oppure accendo solo Vop allora se è accesa soltanto VU e Vop è zero allora ho che V più è uguale R2 diviso R1 più R2 per V quando è acceso solo Vop V più è uguale R1 più R1 più R2 per Vop allora questa quantità qui chiamiamola beta di conseguenza questa quantità sarà 1 meno beta in questa posso scriverla come V più uguale a beta Vop più 1 meno beta che moltiplica V allora vediamo quando è che scatta se Vop può assumere due valori può essere uguale a più V0 o meno V0 se Vop è uguale a V0 allora V più è uguale a 0 se si vede bene V è uguale a meno beta diviso 1 meno beta per V0 devo mettere V più uguale a 0 Vop uguale a più V0 e quindi ricavo V diciamo che questa qui la chiamiamo V alta no questa è bassa in realtà questa la chiamiamo VL va bene questo valore di tensione se invece Vop è uguale a meno V0 ovviamente V più sarà uguale a 0 mi serve sapere quando V più è uguale a 0 perché è l'istante di commutazione d'accordo se V è uguale qui chiaramente cambia soltanto il segno a beta diviso 1 meno beta per V0 e questo qui lo chiamiamo VH che la tensione è alta quindi abbiamo due valori di soglia per V cioè sono valori ai quali V sono valori di V per cui scatta il comparatore una volta definiti questi valori si può procedere e fare il disegno perché immaginate qual è la situazione prima di cambiare pagina assumiamo per esempio che Vop sia più V0 va bene allora Vop è uguale a più V0 all'ingresso dell'integratore c'è una tensione alta l'integratore è un integratore che inverte quindi abbiamo in uscita una rampa discendente di V questa cosa continua fin tanto che V non raggiunge quel valore di tensione VL a quel punto la V più è 0 e quindi il comparatore scatta quando il comparatore scatta la tensione diventa la tensione di uscita del comparatore diventa negativa diventa meno V0 a quel punto l'integratore ha un'uscita che ha una pendenza positiva una pendenza perché ripeto l'integratore inverte la tensione di uscita dell'integratore sale finché a un certo punto non raggiunge VH perché a quel punto V più è uguale a 0 e il comparatore scatta di nuovo la pendenza quindi va verso il basso fu una VL poi scatta poi verso l'alto e così via d'accordo? facciamo un disegno per il grafico di tutte le tensioni utili qui per noi sono utili VOP V e V più le disegniamo tutte una sopra l'altra in un grafico sincronizzato vediamo un attimo se quindi devo mettere tre faccio tre grafici in insomma sincronizzati vediamo un po' se dunque facciamo prima VOP poi V e poi V più ecco d'accordo allora, adesso immaginiamo che per t uguale a 0 dobbiamo fare delle ipotesi immaginiamo che per t uguale a 0 l'uscita dell'integratore sia nulla cioè la capacità sia spenta, quindi ci mettiamo qui e la vop sia positiva, quindi questa qui sia più v0 bene, siamo in questa situazione allora, voi dovete ricordare quello che abbiamo detto, v più è uguale a beta vop più 1 meno beta vu questo abbiamo ricavato prima allora, immaginate che per comodità di disegno beta sia uguale a un mezzo cioè le due resistenze uguali, quindi in quel caso vp è la media di vop e v proprio la media aritmetica, più facile a disegnare allora, adesso faccio il disegno completo, quindi vop è alto v che cosa fa? v scende, d'accordo? in questa fase, perché v è uguale, ho questa relazione qui, dv u su dt è uguale a o meno vop fratto rc quindi scende questo scende in questo modo v più è la media di vop e v, quindi parte qui da un certo valore e comincia a scendere con una pendenza chiaramente inferiore quando arriva a zero, supponiamo che sia qui, a questo punto il comparatore scatta quindi in questo istante abbiamo il comparatore che scatta e quindi la tensione di uscita del comparatore passa da più v0 a meno v0 d'accordo? quando cambia segno vop, cambia segno la pendenza, diventa questo valore qua quindi qui diventa più v0 fratto rc la pendenza prima era meno v0 fratto rc adesso è più v0 fratto rc quindi questo comincia a salire la tensione di uscita rimane costante qui che cosa succede? vedete, qui c'è uno scatto della vop quindi anche v più ha uno scatto come scatta la vop, anche v più scatta quindi passa verso il basso e poi comincia a salire immaginiamo che scatta fin qui per esagerare un po' la discesa così, comincia a salire con una pendenza più piccola all'incirca se beta è uguale a mezzo sarà la metà di quella di v quindi quando v più sale fin tanto che v più è negativo qui l'uscita rimane negativa e questa pendenza continua ad essere costante quindi non cambia niente qua quando a un certo punto aspettate però, ho esagerato un po' ho fatto la pendenza qui troppo leggera perché deve essere uguale a quella negativa abbiamo soltanto cambiato il segno invece l'avevo fatta più debole quindi questo fa così ok? quando a un certo punto v più raggiunge lo zero più preciso questo è più lenta la pendenza a un certo punto qua raggiunge lo zero in questo istante il comparatore scatta di nuovo quindi che succede? l'uscita del comparatore torna più v zero il segno qui si inverte di nuovo questa tensione scatta verso l'alto e poi comincia a scendere di nuovo piano piano e siamo qua eccetera eccetera va bene allora i valori di v a cui si ha lo scatto sono questo che è vh e questo qui che è vl che sono i valori di v per cui v più è uguale a zero come abbiamo calcolato prima d'accordo? torno al discorso vedete l'andamento è piuttosto semplice adesso è relativamente facile andare a calcolare per esempio la durata di ciascuna semionda e quindi il periodo perché noi abbiamo due semionde abbiamo una semionda negativa o per l'onda triangolare la semionda ascendente e una semionda discendente chiamiamo queste t1 e questa t2 e chiaramente il periodo sarà la somma di t1 più t2 perché poi il segnale si riproduce in modo periodico allora valutiamo la durata di t1 è abbastanza facile perché noi sappiamo qual è la pendenza della v sappiamo qual è il percorso che deve fare la v deve andare da vl a vh quindi il percorso è vh meno vl e quindi il tempo che ci mette sarà il percorso t1 sarà uguale al percorso vh meno vl diviso la pendenza che è v zero fratte le sc quindi qui sarà vh meno vl per rc fratto v zero avevo già trovato quant'era vh e vl dunque torniamo un attimo indietro per vedere le espressioni eccole qua vedete vh e vl sono queste e faccio vh meno vl mi viene 2 beta diviso 1 meno beta per v zero quindi questo è 2 beta diviso 1 meno beta per v zero per rc diviso v zero quindi v zero si semplifica e questo è quello che rimane t1 uguale 2 beta fratto 1 meno beta per rc e beta è il rapporto di resistenze no? abbiamo già definito prima per t2 abbiamo invece la cosa opposta dobbiamo fare il percorso che è vl meno vh diviso la pendenza che è meno v zero fratto rc quindi in pratica in questo caso particolare abbiamo che il percorso è uguale a quello di prima cambiato di segno la pendenza è uguale a quella di prima cambiata di segno quindi t2 sarà uguale a t1 quindi di conseguenza t che è t1 più t2 sarà uguale 4 beta diviso 1 meno beta per rc vabbè la ampiezza picco picco dell'onda picco picco come si dice cioè dal massimo al minimo dell'onda triangolare beh non è nient'altro che vh meno vl quindi è 2 beta diviso 1 meno beta per v0 d'accordo ok dunque questo perché funziona ecco io questo non aspetto su cui vorrei tornare perché questo funziona mentre invece quell'altro non funzionava perché vedete qui ah boh nell'altro caso noi avevamo che v pian piano scivolava no traslava verso l'alto verso il basso secondo il segno della tensione di offset in questo caso v non può traslare perché in pratica abbiamo una commutazione tutte le volte che v raggiunge vh e tutte le volte che v raggiunge vl quindi per forza di cose la v viene confinata tra quei due valori rimbalza tra quei due valori d'accordo? è la costruzione del circuito che ci garantisce questo perché perché la commutazione del comparatore dipende dall'uscita di v non dà una quantità intermedia va bene? questo è chiaro che cosa succede se abbiamo una tensione di offset in questo caso? rifletteteci un attimo se non abbiamo una tensione di offset in questo caso che cosa succede? succede che alla v si sovrappone una una pendenza quindi per esempio se abbiamo il caso uguale a quello precedente in cui c'è una c'è l'effetto di una pendenza negativa che causa la tensione di offset che cosa succede? che quando abbiamo la rampa in salita di v questa rampa in salita salirà un po' meno velocemente perché c'è c'è da sommare una rampa leggera in discesa quando c'è la rampa in discesa di v questa rampa in discesa sarà un pochino più rapida d'accordo? quindi però l'effetto che si ha non è un effetto distruttivo come nell'altro caso succederà che rispetto al caso ideale T1 la durata della rampa in salita siccome la pendenza viene un po' ridotta verrà più lungo del valore che abbiamo calcolato T2 siccome la rampa in discesa andrà un pochino più veloce sarà un po' più breve di quello che abbiamo calcolato quindi l'effetto della tensione di offset diventa quello di rendere un po' asimmetrica l'onda triangolare ma in modo impercettibilmente simmetrico i valori alto e basso rimangono invece bloccati e quindi ho che una piccola tensione di offset mi causa un piccolo errore ma niente che si accumuli nel tempo e mi porti al come dire al funzionamento completamente sballato del circuito va bene quindi il punto principale è che non è che in questo caso gli effetti non ci sono che gli effetti sono piccoli e non si accumulano nel caso precedente l'effetto della tensione di offset viene appunto accumulato dall'integratore fino a portare completamente fuori regione di funzionamento il circuito chiaro il discorso allora c'è qui da aggiungere un'altra considerazione che è il fatto che io potrei volere un'onda triangolare asimmetrica cioè con una pendenza in salita diversa dalla pendenza in discesa per tante applicazioni differenti vorrei rendere giocare con questa cosa e rendere la cosa simmetrica dov'è che posso agire? chiaramente bisogna fare in modo che la pendenza sia diversa in salita rispetto alla discesa c'è tanti modi di farlo dopo qualche esercizio e lo vediamo insieme posso già anticipare un po' una cosa che viene piuttosto evidente se torniamo un attimo indietro ecco qua se io qua invece di mettere una pendenza nulla una tensione nulla qui sul più metto una tensione costante vedete rendo diversa la salita e la discesa immaginate in questo nodo qui sul più io metto una tensione vr a quel punto quando qui ho v o avrò una corrente in r che è v o meno vr fratto r e quando la tensione qua è meno v0 avrò meno v0 meno vr fratto r quindi non è più simmetrica diventa simmetrica se è simmetrica la corrente sarà simmetrica anche la pendenza d'accordo questo è un caso un altro esempio è quello di fare in modo di avere asimmetrica la vop e per rendere asimmetrica la vop basta per esempio mettere quest'altra tensione qua ad una tensione diversa da 0 a quel punto la tensione all'uscita del trigger di smith è asimmetrica rispetto a 0 e quindi la rampa sarà asimmetrica va bene lì c'è da stare un po' a tempo ci sono tante soluzioni possibili e poi ecco diciamo più che guardarle così in teoria facciamo un po' degli esercizi anche numerici per verificare un po' come la cosa funziona ma ci sono tanti punti dove posso toccare il circuito per rendere asimmetrica l'andamento un po' come abbiamo visto per il generatore d'onda quadra diversi punti che posso toccare per rendere tutto asimmetrico ok dunque a volte fa comodo avere un'onda triangolare a frequenza variabile vedete in questo caso qui che cosa abbiamo noi trovato che il periodo dipende da r da c e da beta beta è r1 divisa r1 più r2 quindi dipende soltanto dalle resistenze e dalla capacità che inserisco vuol dire questo una volta scelto il circuito il periodo è fisso mi può far comodo alle volte avere un un'onda triangolare comandabile a con una tensione per esempio questo questo fa comodo tipicamente anche in come dire in sistemi telecomunicazione se ho bisogno di realizzare un'onda a frequenza variabile per fare una conversione di frequenza d'accordo spesso non voglio avere un'onda fissa voglio poter variare la frequenza in modo da scegliere quale segnale porto in una certa banda questo si può realizzare modificando appena appena questo circuito per vedere il caso più semplice giusto per capire qual è il principio e in generale i circuiti che consentono di ottenere un'oscillazione comandata da una tensione si chiamano VCO VCO sta per voltage controlled oscillator quindi oscillatore a controllo di tensione controllato in tensione ecco il generatore di onda triangolare come anche il generatore di onda quadra rispecchiano la nostra definizione di oscillatori sono dei circuiti che forniscono in uscita un segnale periodico va bene non sono gli oscillatori che abbiamo visto con criterio Barkhausen perché sono oscillatori che si ottengono a partire da circuiti a scatto non da circuiti lineari quindi gli oscillatori che si ottengono a partire da circuiti lineari li studiamo con metodi lineari quindi guardando un sistema in reazione oscillatori che si ottengono a partire da circuiti a scatto li studiamo analizzando il circuito a scatto direttamente senza senza criterio di Barkhausen eccetera perché ovviamente in quel caso non si applica allora ripeto ancora questo è il caso più semplice di oscillatore controllato in tensione perché è una minima variazione rispetto al generatore d'onda triangolare dunque che cosa facciamo il circuito è fatto così abbiamo il comparatore con i stelesi invece qua di mettere direttamente l'integratore qua mettiamo un circuito che mi introduce il controllo di tensione che è fatto così ho due MOSFET 1 a canale dunque 1 a canale P che è questo e 1 a canale N che è questo questo qui a dire la verità si chiama inverter questo circuito poi vedrete che lo guarderemo insieme in altre circostanze questa è la prima volta che lo vediamo vi do un nome non vi dice molto ma vedrete che poi lo vedremo in altre circostanze ecco allora questo questa tensione qui la chiamiamo Vm e questa qui applichiamo la tensione che è meno Vm quindi questa è la Vop che va da più V0 a meno V0 e qui abbiamo una Vm e poi dopo c'è l'integratore allora guardate questo com'è che funziona chiamiamo questa tensione qui V1 allora se Vop è uguale a più VO questo è un P mosfet e questo è un N mosfet allora in questo caso l'N mosfet è in conduzione che la tensione tra gate e source è maggiore della tensione di soglia il P mosfet è invece interdetto perché la tensione tra gate e source è maggiore della tensione di soglia allora se conduce l'N mosfet in pratica V1 va a finire a meno Vm V1 è uguale a meno Vm e questo vuol dire che la tensione V sarà uguale questo è un integratore quindi avremo che la derivata di V rispetto a Vt sarà uguale a Vm fratto RC quindi pendenza positiva ok se Vop è uguale a meno V0 che è l'altra circostanza abbiamo invece che l'N mosfet è interdetto e invece P mosfet è in conduzione perché la tensione sul P Vgs sarà inferiore alla tensione in soglia negativa e inferiore alla tensione in soglia è la condizione in cui P mosfet conduce e quindi V1 in quel caso sarà uguale a più Vm e quindi la derivata della tensione di uscita dell'integratore sarà meno Vm su RC allora se lo confrontate con il circuito precedente vedete qui c'è stata un'inversione di segno perché quando Vop è alto V1 è basso e la pendenza è positiva quindi c'è un'inversione di segno prima quando Vop era alto la pendenza era negativa adesso quando Vop è alto siccome V1 è invertito rispetto a Vop la pendenza è positiva a questo punto per compensare il tutto e fare in modo che il circuito funzioni lo stesso bisogna riportare questo indietro però riportarlo sul meno invece che sul più perché così quando la tensione è alta V sale a un certo punto V raggiungerà la tensione sul più e questo potrà commutare d'accordo? allora qui vediamo com'è che funziona in dettaglio tenete presente che V più in questo caso raggiungiamo anche questo in questo caso V più è sempre uguale a Vop per questo partitore è uguale a beta per Vop quindi se Vop è uguale a V0 V più è uguale a beta V0 e se Vop è uguale a meno V0 V più è uguale a meno beta V0 perché mi importa dirvi dove è V più perché V più rappresenta la soglia con cui viene confrontata la V quindi il comparatore commuta quando V è uguale a V più è uguale a più meno beta V0 Allora facciamo un facciamo di nuovo adesso per vedere per bene il funzionamento e il grafico nel tempo dell'andamento di queste tensioni prendiamo la tensione Vp la tensione V più e la tensione V quelle più significative allora abbiamo detto Vop ecco io qui però un pezzo che mi convenga fare V e V più sullo stesso grafico così si vede meglio quando uno è uguale all'altra e quindi questo sotto non lo uso allora cosa devo tenere a mente per fare il disegno devo tenere a mente le seguenti cose che V più è uguale a beta Vop Vop può essere uguale a due valori più V0 e meno V0 quindi facciamo così me li segno questi due valori faccio un trattino qua a più beta V0 e un trattino qua a meno beta V0 va bene quindi questo è più beta V0 e no beta più V0 e questo è meno V0 allora immaginiamo che all'istante 0 Vop sia più V0 quindi V più sarà questo qui sarà beta V0 va bene la V immaginiamo che sia nulla dobbiamo partire da una condizione iniziale come abbiamo detto anche nel caso dei transitori quando facciamo lo sparse immaginiamo che la capacità sia scarica all'inizio e quindi V se la capacità è scarica vale all'ingresso cortocircuito virtuale quindi V è uguale a V0 allora a questo punto se Vop è alta V1 è bassa e la pendenza di V è positiva Vm divisa Rc quindi a questo punto io posso andare qua e so che questa pendenza sale questa curva sale con pendenza d V su dT uguale a Vm diviso Rc fin tanto che V rimane più piccola di V più l'uscita rimane alta e quindi qui abbiamo queste curve che si mantengono questa si mantiene alta e anche quindi V più uguale a beta V0 e si mantiene alta a sua volta va bene quando è che le cose cambiano quando questa rampa che sale ad un certo punto incontra beta V0 va bene perché a quel punto abbiamo la commutazione quindi in questo istante abbiamo una commutazione e che cosa succede quindi la tensione di uscita passa passa da più V0 a meno V0 va bene la funzione V più è uguale a beta Vp quindi passa da più beta V0 in questo istante a meno beta V0 va bene e a questo punto avendo cambiato di segno Vp cambia di segno alla pendenza V quindi questa comincia a scendere chiaramente non succede niente fin tanto che la tensione V più non rimane più piccola di V quando raggiunge lo stesso valore supponiamo che sia questo ok cioè in questo istante abbiamo una nuova commutazione la tensione di uscita torna alta quindi qui a questo istante abbiamo che la tensione di uscita del comparatore scatta di nuovo in alto anche anche V più quindi che beta Vp scatta in alto e quindi la pendenza all'uscita dell'integratore chiaramente cambia di segno e comincia a salire insomma avete capito com'è che funziona a questo punto qui sale sale finché non incontra il nuovo V più e quando lo incontra abbiamo un'altra volta una commutazione che vedete è una cosa continua senza interruzione questa cosa continua abbiamo un'onda rettangolare quadrata in questo caso all'uscita del comparatore e un'onda triangolare all'uscita dell'integratore e le cose si ripetono uguali a se stesse d'accordo? la pendenza di questa curva è Vm su Rc la pendenza di questa curva è meno Vm su Rc allora a questo punto non si tratta cioè non dobbiamo fare altro che calcolare la durata delle semionde vedete è abbastanza facile in realtà se io mi metto qua chiamo questa T1 questa T2 io so che cosa che l'onda la T1 quindi la variazione picco picco diciamo ampiezza picco picco dell'onda triangolare picco picco è uguale a 2 beta V0 che si va da più beta V0 a meno beta V0 la T1 che cosa sarà sarà quindi questa ampiezza diviso la pendenza Vm su Rc quindi dal tempo quindi il percorso che è 2 beta V0 col segno meno perché lo percorro in negativo diviso la pendenza che è meno Vm su Rc mi da qui posso portare Rc sopra meno col meno va via 2 beta Rc V0 su Vm T2 viene esattamente uguale quindi T verrà uguale a 4 beta Rc V0 su Vm vedete in pratica che cosa è successo che aggiungendo l'inverter ho aggiunto Vm perché Vm adesso è una tensione mentre prima l'escursione era determinata la pendenza era determinata da V0 la pendenza è l'onda rettangolare è la triangolare adesso la pendenza è determinata da Vm prima V0 si esemplificava tra numeratore e denominatore e mi spariva la dipendenza della tensione quindi avevo un periodo che dipendeva soltanto dal resistenza e capacità adesso inserendo Vm mi è venuto il rapporto V0 su Vm allora V0 è una tensione che non posso modificare perché dipende dal diodo è la Vz del diodo più la Vg quindi è una quantità fissa una volta scelto il diodo ma la Vm può essere determinata da un generatore di tensione quindi posso avere un generatore di tensione variabile che mi modifica la Vm e di conseguenza mi modifica il periodo dell'onda triangolare bene quindi questa tecnica è servita a introdurre un grado di libertà in più la frequenza dell'onda triangolare che è 1 sul periodo vedete viene esattamente proporzionale a Vm e questo è il senso di Vco avere una frequenza dell'oscillazione controllabile in tensione questo non solo è controllabile ma è esattamente proporzionale alla tensione d'accordo? va bene allora ci fermiamo un attimo e facciamo una pausa grazie a tutti